Ormai è una corsa al rialzo, c'è un'asta per avere informazioni su Daniele Jacoponi, una delle poche note liete della disgraziasta stagione dell'Arezzo da poco passata in archivio. Dopo Torino, Genoa e Parma, anche Frosinone e per ultimo il Perugia, stanno sondando il terreno. Il problema è che l'Arezzo comunque vada, andrà a prendersi solo un premio di valorizzazione. Il ragazzo infatti alla fine del mese si svincolerà e potrà piazzarsi dove meglio crede. Per Jacoponi è una stagione da sogno, ha iniziato l'annata in Serie D per poi approdare all'Arezzo dove in poco tempo ha conquistato la fiducia degli allenatori. Il punto più alto lo toccò contro il Materica dove mise a segno una rete molto bella. Poi una leggera flessione comprensibile per un ragazzo di 20 anni. Adesso è pronto per fare il grande salto, ma dovrà stare attento a non fare lo stesso errore di caso che per forza volle andare al Genoa e ha trovato pochissimo spazio. In pratica una stagione buttata via per lui. Per quanto riguarda gli arrivi sono sempre gli attaccanti Scotto e Ferri Marini quelli in cima alla lista di Enzo De Vito. La settimana potrebbe essere decisiva per il loro futuro.